Dal parco Cattaneo, vedete, quello è il bidone, già il bidone, il cassonetto dove vengono messi, ecco torna un attimo indietro Marco se puoi per favore, dove vengono messi i vestiti per la Caritas. Ora tutti i santi giorni, così ci hanno detto, e di fatti questo è il secondo video che ci arriva, vedete queste due signore vanno, prendono, cioè infilano le mani dentro, tirano fuori i vestiti, se li guardano, se li provano, se non li van bene li rimettono dentro e vedete che c'hanno proprio lo sacco, lo vedete lì sulla sinistra, che c'hanno proprio lo sacco, che si riempiono il sacco di roba, ora le vedete sparire improvvisamente perché si sono accorte che erano filmate. Noi abbiamo anche un altro filmato che c'era arrivato la settimana prima, noi gentilmente abbiamo chiesto che ci arrivasse in orizzontale invece che in verticale, se no Marco si incazza, però è la stessa cosa. Praticamente tutti i santi giorni o quasi tutti i santi giorni e quasi sempre alla stessa ora, cioè tra le 14 e le 15, queste persone vanno lì e come vanno lì andranno anche dalle altre parti immagino, praticamente infino le mani dentro, si tirano fuori i vestiti che la gente butta lì per la Caritas, se li provano, se li guardano, se non li van bene e li rimettono dentro perché dice no, non è che li butta in via. Allora, porca di quella miseria, ma noi ve lo diciamo da una vita, ci sono delle regole, ci sono delle regole e dobbiamo seguire le regole perché sennò ognuno fa quello che vuole. Allora, ci sono delle regole, seguiamo le regole, hai bisogno di un vestito? Non andarlo a rubare nel cassonnetto della Caritas, che lo prendi, lo butti per terra, si sporca di fango, di l'acqua che è piovuta, lo rimetti dentro, sporchi tutti gli altri, vai alla Caritas e te lo fai dare, vai dai frati, vai dove danno queste cose qua? Non ho un vestito, datemene uno, te ne danno anche tre, ma perché devi andare a rubarlo nel cassonnetto? Oltretutto andandoci tutti i giorni, allora forse mi viene in mente che abbia ragione Marco, che li tirano fuori e poi se li rivendono. Però la domanda è anche un'altra, visto che la persona, questo signore che ci ha mandato il video, ci ha detto, ce ne hanno già mandati due, sempre alla stessa ora e dice, intanto passano quasi tutti i giorni. Gli abitanti della zona sanno, perché l'abbiamo chiesto noi, sanno che quasi tutti i giorni alla stessa ora vanno lì. Lo sappiamo noi, lo sa persino Marco, ora lo sapete anche voi, teleaspettatori, possibile che non lo sappiano i vigili, che non lo sappiano i carabinieri, da andare lì, ma non ti dico di fare qualcosa, perché povero, ma per l'amor di Dio mi scappa anche, cioè non è questione del vestito, capito? Cioè è una questione di seguire le regole, perché se io mi metto ad andare a ravannare da tutte le parti, perché intanto se vado ad un'altra parte li prendo, cioè voglio dire, ci sono delle regole, seguiamole.